1, 2, 3, 4 Eccola qua, la nostra Ludovica Karamis Poi vi dirò anche tutti i cognomi che finora ho detto solo i nomi Lei di cognome fa Karamis Karamis Che è di origine greca Io nonno era greco Era nonno greco Di cosa parliamo invece oggi? Non del tuo cognome ma di? Oggi parliamo di... Sonno Grazie 1, 2, 3, 4 Eccoci Allora Cara Ludovica di cosa parliamo?